L'organizzazione umanitaria mediterranea Saving Humans denuncia vietato soccorrere il governo, blocca anche la Mare Ionio, dopo che ieri la capitaneria di Porto di Pozzallo ha impedito l'imbarco del paramedico e dell'esperto di soccorso in mare. Abbiamo visto in questi mesi, in queste settimane, anche nell'ultime ore, che in maniera sistematica sono state bloccate tutte le navi della Civil Fleet, della società civile, tutte le navi compreso Montbird, l'aereo di monitoraggio. Il messaggio è chiaro, non si può salvare le vite umane, è vietato soccorrere in mare. Secondo la Guardia Costiera si tratta di regolari controlli legati anche alla classificazione delle navi. Molte delle imbarcazioni che soccorrono i migranti sono di tipo commerciale. Per l'equipaggio di Mediterranea però chiunque trovi persone in difficoltà in mare aperto ha il dovere di salvare vite.